Eccoci qua, buongiorno! Buongiorno, palestra 01, buongiorno a voi a casa, come state? Oggi la faccio la casa mia, la lezione, non in palestra ma sono a casa. Ecco Bruno, ciao Bruno, Bruno dimmi un po' dopo eh, fammi qualche segnale per il volume. Ora ho la musica bassa eh, voglio dirvi una cosa, organizzatevi voi che pedalate da casa con un riproduttore di musica, amplificatela in qualche modo, non ascoltate solo dal telefono, è chiaro che il telefono non ha il volume che spara, comprate un riproduttore di musica, o qualsiasi cosa, se ti dite meglio. L'acustica è importante per noi, l'attività che facciamo noi, se abbiamo la musica buona, giusta, è un casino eh. Ciao Vale, qualche minuto ancora eh, preparateli, prendete posto. qua vediamo chi arriva, qualche saluto. Qua la cosa va per le lunghe ragazzi, organizzatevi, ci sono ancora bike da noleggiare se volete, se non ce l'avete, contattatemi, vi do, vi do poi il contatto di referente, vi mettete direttamente in contatto con lui. ciao Claudia, ciao Claudia Manfredini, vedo c'è anche la Paola, Paolina da dove, dall'ufficio te. e se è finito i soldi, si vede tutta a casa tua eh, da chi è. Ciao Paola, Rossella, ciao Rossella. e poi e poi e poi dai. i ventagli alle mie spalle eh, qualcuno che voleva rivedere. eccole qua, con le bandiere. due minuti per andare. oh Paolino, vieni Paolino, vieni. grazie Paola, buon pranzo a te allora. ah, chi poteva essere, sennò rovetta a scrivere quelle cazze. grande Robi. a proposito, non solo cycling qua su pagina 01, ma seguite tutti i corsi eh, seguite tutti i corsi eh. di tutti i miei colleghi, grandi e bravi istruttori. per esempio Stefano, ciao Stefano. un minuto e poi andiamo eh, dai, che c'è c'è e che non c'è ci riprende. ma il leone, il leone è nulla oggi. niente, il leone, il leone è nulla. la donatella. ah, quanto mancate ragazzi. quanto mancate. si provo a pedalare ma non è uguale eh, non è la stessa cosa. ok, io vado eh, fermo qua. e faccio. ok, faccio partire. alzo un po' di volume alla musica. e poi mi dite un po' eh, come funziona. vado sopra. faccio un bel respiro dai, un bel respiro grande. e mando via. ancora di più. mi trovo fuori. quando vuoi, porta le mani al centro. prendi la strada. io ci provo a dare un po' di volume eh. un po'. un'azione abbastanza lecchiale nella prima parte. un po' più cattiva nella seconda parte. a prima parte. facciamo una quale. la могida che non sono lecchiale. ora io ne la sc genetics e la Spain. Corrivo. come è la voce, come è la musica datemi un pegnato a casa, va bene? ditevi qualcosa, ditevi un like grazie a 5 minuti di warm up dobbiamo rarciarsi bene, grazie, grazie tocca le mani, dai, aprirci il manolo grazie a tutti 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 4, 3, 2, 1, 3 lo rifacciamo? si stai vero? 4, 2, 1, go 4, 2, 1, go bene, bene Vieni! Acora, acora! 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 Guarda! Di nuovo! Con la musica! Giro! Bella! Tanta strada! A lungo al basso! Facendo la musica! Il rato! Rato alla mia! Il rato! Cosa! Cosa! Il rato alla mia! Dichosca! Dichosca! Sì, 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 sì. Sì, come va? Sì, come va? Sì, come va? Come va? Sì, come lo piangi, vai piccolamente! Ci fa, vero? È solo per l'uomo, eh? Che tua storia! Quattro, tre, due, vai! Oh! È solo per l'uomo! Sì, tu la paletta, tu la strada! Sì, come va? Tornando ai, tu la... Giorno! Giorno! Gordi, gordi Allora, ti va Passo! Flash it! Come va, eh? Let's play! Flash out! Eccolo alto, dai! Occhio, dai! Allunga, allunga! Allunga, allunga! Allunga il basso! Corri, corri! E' una pianura! Ed è l'unica di oggi, veloce! Con l'ostella! Adesso, la prima montagna, no?! Amadei i calzi, dai! Buoni sulla pianura! Buona con me! Chiudi i miei occhi! Buona con me! Buona con me! Chiudi i miei occhi! Buona con me! lascia di prendere l'amore lascia di avvolgere cambia la resistenza aggiungi dai gioca lo sforzo rinconesta è una lunga pianura che spisci la pelle l'unica pianura per lo segno scanda qualcosa trovati scinati agisce più di ora non provare 20 seconde con gli altri che recuperi la torta no? semplicemente lo scelto 2-2-3 metri che hai messo togliete a leggerci un po' mantieni lì mantieni la velocità ora lo rifacciamo ok? ciao Cristina siete libero? ci siete? un po' come prima due minuti ancora la torre a chi si chiudi dai attenti 30 30 che qua un po' di nuovo un chilometro un po' di nuovo rischia sentire dei gambe al cuore vado ancora chiudi che è duro chiudiamo chiudiamo quattro tre due lascia andare lascia andare e cambia tutto e già fa salita la prima di oggi e chi è a questa strada avvita avvita stringi stringi previ tre di running mountain adesso metto la velocità che avevo prima completo con il carico spaventare resta lì resta lì un po' di nuovo tre dei metri importanti poi ci stiamo ogni volta e lo mantieni prova prova arriva arriva chiudi più di bene tenere vai attento attento 4 3 2 6 la manchini la manchini non cambiare l'ombra e li fa lo stesso vero e li fa vero eccolo qua chiudo chiudo di più andiamo vieni vieni per il sistema anche per chi non c'è adesso che magari te lo hai là dopo vero mica vero mica 8 3 2 6 non cambiare non cambiare non cambiare ma che non c'è ti piace eh anche bella ma per la sciarma e adesso non vai non vieni non puoi andare allora non li facciamo ancora provati provati più di bene sali su me dai 6 6 6 8 8 9 9 10 10 11 11 12 13 12 12 12 13 13 13 13 13 13 14 15 14 13 15 15 16 16 18 19 20 20 19 è il suo cavallo di battaglia è una montagna la prima scelerazione di Enzi ha portato il passo andiamo su seguimi e migrazione di Enzi e migrazione di Enzi via 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 Sì che puoi! Chiudi! Un solo muro! Tutto qua! Una crescita costante! C'è c'è! Andiamo lì! E' ritorno da parte! Andiamo lì! Il braccio non c'era! Chiudi! Due minuti! Chiudo! E' ritorno da parte! Cr dennina fa lì! Un minuto! Grazie a tutti. Grazie a tutti. La pioggia, quella di novembre, per fortuna non è così. Tra un running fatto su queste note il violino. November Rain, fianza e rose. Bevi, eh? Bevi sempre. Quando vuoi? C'è la legna con me, dai. Come? Voi? 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 solo per sé venga suba parte Terecante 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yeah. Yeah. No, 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 no. No, 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 no. Facile, la poltrona, facce dal divano, Polino, ma i Deoli dov'è? Pronti? Senta storia! Quattro, tre, due, vieni, vieni! Quattro, cinque, sei, sette, otto, giù! Dai! Quattro, quattro! Quattro, quattro! Di nuovo, altra venti! Yeah! Automatico! Senta! Senza pensare! Tieni a sé! Dai! Vai! Bravi! Verde, nog stai! Vieni, vieni! Vieni a fare il running! Vieni a galleggiare! Un po' come prima con le ganse dosi! E poi le due montagne finali! Ok! Quando vuoi, eh? Dari con me! Cercate di stabilizzare! Sempre a farlo! Cercate di stabilizzare! Sempre a farlo! Dari con altri! Ci cazzo! No! Entra来! Dai, dai! Dari con tutte le mani! Dari entro! Allora, adriveso!" Accordate il medico, non ti riesci Come stai? Schiaccia Mata un legge Fammi vedere il medico stai Suona, suona Suona Dammi musica Noi ci nebbiamo di musica L'espanica, l'espanica 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 Vem noi, voi Vem noi Nel cielo Così nel cielo Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 5 5 6 7 7 8 9 10 11 12 4 3 2 1 Di nuovo si rimane! E ancora di più! Voglio di più! Andiamo a prendermi l'ultimo! Allora prendiamo l'ultimo! Vieni con me! Eccolo qua! Vieni! E' una bella strada! è una bella strada, è spazza e ripazza, ciao Cristina, pronto a scelerare? E' la strada, eccola qui, vieni, accelera, 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 e 3, 2, 1, 1, l'ultima salita, l'ultimo è il penne di montagna, e poi con i 100 metri, 3, 2, 1, l'ultima grande salita, picchia di più, picchia di forte, resta in sella, più di più, stai accelendo, 5, 5, 5, 5, 5, 5 incrementi, sulle curve, poi ti cieli ma non è finita, 5, 6, 2, 3, 5, 8, 7, 9, 8, 9, 10, Giù lì, si è accorto del tiro, ho la voglia di vincere sempre, ancora più da suoi, cambiala, cambiala, giù lì, giù lì, si è accorto del tiro, non è finita! Sì, si è accorto del tiro, non è finita, non è finita, non è finita, non è finita! Non è finita, non è finita! Non è finita, non è finita, non è finita! 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 Non è finita, non è finita, non è finita! Non è finita, non è finita, non è finita, non è finita! Non è finita, non è finita, non è finita! Quattro! Vieni! Vieni! Accele! Accele! Vieni ragera! Vieni ragera! Cresci! Cresci! Vieni ragera! Cresci! Vieni ragera! No! 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 Prega! 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 Riporta il cuore a casa, dai! Piano piano, prenditi il tempo che vuoi! Va bene! Poi cercherò di salutarvi un po' tutti. Intanto vi voglio ringraziare per chi c'era e per chi magari poi la farà indeferita. Ringraziamo ovviamente 01 che comunque permette anche in questo brutto momento di rimanere un po' in contatto degli esseri uniti dalla passione che ci unisce. Saluto Bruno, saluto Roberto! Poi ricordo Maura, ricordo Claudia, Paolino, e tutti chi c'era dai! Lo farò dopo! Bene così! Abbiamo riportato il cuore! Ciao Giovanni, grazie anche a te! Una vita meravigliosa, diceva Dio Dato! Comunque vita, dai! Ciao Rossella! Ciao Angela! Ciao Roberto! E' bene tutti dai! Siamo arrivati! Vai lentamente a fermare! Ciao Roberto! E' bene tutti dai! Siamo arrivati! Vai lentamente a fermare! Siamo arrivati! Allora, 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 allora tirarmi di nuovo! Siamo arrivati dal lavoro e a mezzo nel resto! Siamo arrivati a venditori! Eccosi qua! Allora, stiamo arrivati a fermare! Siamo arrivati a fermare un po' di thresholding! e andiamo via ferma le gambe un po' di stretching un bel respiro io provo a alzarlo lui andrà via andrà di più e poi le spalle in avanti la voce è confondibile e prendi metri mano sulla testa pego il fondo quattro parte in alto verso il cielo lentamente vieni su sui talloni metto in giro guarda attenzione appoggia le gambe guarda attenzione l'uomo vieni su torna a spada canta l'aggianto l'aggianto la cadenza è che la Cambio Dove cammina Se lo si vede Qualcuno mi chiede la bandiera Un bel respiro Un bel sorriso Un bel respiro grande Aspetta lo faccio da qua Grande grande La schiena in medio E butta il resto fuori Grazie Grazie a voi E di nuovo grazie a 0-1 Ci vediamo lunedì Se volete 18-30 Sente qua Passione E di quella Dance life Grazie a te Paolino Grazie a tutti 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 Grazie a tutti.